Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per una nuova presentazione, un saluto a tutti quanti, come al solito, un grazie enorme a tutti quanti ragazzi, ma mi avevo anche già appunto ringraziato nelle scorse presentazioni, ma continuerò a ringraziarvi, grazie mille a tutti quanti ragazzi per il vostro interesse, la partecipazione, i like, i like, gli iscritti, grazie mille. E per quanto riguarda gli iscritti colgo una, diciamo una precisazione, ok, io effettivamente non lo faccio apposta ragazzi, non lo faccio apposta, appunto, il nostro amico youtube appunto rende pubbliche solamente alcune iscrizioni e quindi io automaticamente posso vederle, ma quelle che invece non vengono rese pubbliche io non posso vederle e quindi automaticamente non posso iscrivermi e non lo faccio apposta. E allora mi è venuta un'idea, oltre che stringervi la mano di persona, se voi fate un attimo un salto dentro nel video, io vi ingazzo di persona, come appunto avevo già detto, ok, scrivetemi sotto il nome dei prossimi iscritti, proprio nelle descrizioni mi scrivete il nome ragazzi così potrò iscrivermi anch'io e ovviamente sarà un piacere iscrivermi anche per me ai vostri canali, altrimenti, ragazzi non mi viene in mente, altrimenti sono proprio fritto, sono fritto. Perfetto ragazzi, ok, e come al solito poi per gli interessati trovate sempre sotto il link per quanto riguarda la vendita di questa componentistica, o meglio componentistica del settore elettrotecnico, appunto la trovate, insieme poi ad Alta Componentistica, nel gruppo. Perfetto ragazzi, e torniamo quindi al nostro amico circuito, ciao amico circuito, come stai? Bene? Oh bene, e beh, allora mi fa piacere, sono queste, è questa la frase che voglio sentire. Perfetto ragazzi, e quindi, fategli anche voi una domanda, chiedetegli come sta, eh? Non abbiate timore. E allora, siamo sempre qua appunto con il nostro nuovo circuito che abbiamo leggermente modificato, esatto, sì. Allora, questa volta praticamente facciamo un'ipotesi che noi abbiamo più di un ramo di tensione e per la precisione in questo caso due rami di tensione, ok, che ognuno andrà quindi ad alimentare un carico. Abbiamo sempre il nostro carico, ok, tensione di rete 230V, e quindi, che sarà alimentato dalla rete 230, che è rappresentato dalla nostra lampadina. Ciao lampadina, tutto bene? Bene, sì, ti vedo in forma, ok, ottimo, perfetto. Il nostro, la nostra lampadina risparmio energetico, o lampadina LED, ok? E va, visto 9W, se non scordo, eccetera, eccetera, ma chi se ne frega. In più, questa volta, aggiungiamo anche un piccolo alimentatore, ok? In questo caso non ha la guidadina e non è un alimentatore, appunto, da quadro elettrico. Vabbè, chi se ne frega, infatti lo lasciamo lì a parte, e lo so. Adesso, guardo, se ho una guidadina, anche per te te la metto, così puoi fare compagnia dei tuoi amici, ragazzo, ok? Ma mi sa di no, ma tu guarda, a volte le disgrazie. Beh, vabbè, vabbè, sarà per un'altra volta, ok? Farò possibile. Ok, ragazzi, e quindi salutate il nostro amico alimentatore switching, che appunto, in questo caso, fornirà un altro ramo di tensione. Ovviamente andrà a tensione di rete, per come tutti gli alimentatori, ok? Alimentato a tensione di rete 230, per cui andremo a prenderlo direttamente, il 230, sul nostro morsetto, ok? E quindi andrà a alimentare il nostro alimentatore switching, il quale butterà fuori un ramo di tensione più basso, ok? Cioè di 12V, per una bella differenza. Abbiamo la linea principale di 230V, che andrà quindi a alimentare, come al solito, la nostra lampadina, più un altro ramo di tensione, a bassa tensione, in tensione continua, che andrà invece ad alimentare, beh, non ha bisogno di presentazione ormai, giusto ragazzi, la nostra lampadina, ok? Verde a incandescenza, verde, color verde speranza, ok? Perfetto. Per cui avremo un doppio ramo di tensione, e ogni ramo di tensione si occuperà di alimentare un carico. In questo caso, il nostro carico sarà alimentato per entrambi i rami da due lampade, una LED e l'altra incandescenza. Per cui avremo un carico resistivo e un altro carico, che non possiamo ovviamente chiamare proprio resistivo, vabbè, vabbè, questo dovremo entrare, ma non lo facciamo adesso. Perfetto ragazzi, bene, e quindi io sono pronto, infatti possiamo vedere che il nostro alimentatore è acceso, e i LED, stai controllando la presenza di tensione 230? Sì, ok, bravo, ok. Il nostro LED appunto da 3 mm, verde, ok, anche lui speranza, non quel politico per carità, ok, è attivo, per cui siamo a posto, ok? Ok, quindi è tutto collegato, io direi che possiamo dare via e accendere quindi il nostro carico, o meglio, i nostri carichi. Per cui praticamente noi cosa faremo? Utilizzeremo sempre qui la bellezza, ragazzi, ma come fanno a non piacere questi dispositivi? Alcuni mi hanno detto, ma che brutto quel dispositivo lì, ma è così comodo? Ma io direi proprio di sì, ragazzi, perché con il nostro amico contattore, noi possiamo comandare, dato che abbiamo quattro posizioni, perché praticamente, come possiamo, tanto ormai lo conosciamo benissimo, ok, abbiamo appunto quattro morsetti di uscita. E ovviamente ogni morsetto sarà poi corrispettivo dall'altra parte di ingresso. Per cui noi potremmo comandare infiniti carichi, perché abbiamo da quattro morsetti di uscita, e noi possiamo attaccare diverse cariche, diverse lampade. Perfetto? O utilizzare semplicemente, o applicare semplicemente un carico per ogni uscita. Dipende un po' come vogliamo fare, ragazzi. Eh, ok, non c'è limite alla fantasia, facciamo un po' come vogliamo. E in questo caso, appunto, entraremo, come al solito, con il nostro ramo di tensione 230V, bene, che in questo caso si occuperà anche, appunto, di alimentare il nostro alimentatore switchi, ok? Perfetto. E in più utilizzeremo anche un ramo di bassa tensione 12V dc, corrente continua. Perfetto. E entrambi i rami saranno attivati, e quindi il nostro contatore avrà la funzione importante di chiudere entrambi i circuiti. Quello di rete 230V più quello, appunto, di bassa tensione 12V. Ma non è fantastico, ragazzi, e quindi potremo attivare due carichi. Sono pronto? Bene. Allora, possiamo accendere tutto quanto, ragazzi. Allora, sì, 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 quello è già acceso, ok? E quindi, come al solito, attiviamo... Ah no, sono già su One. Me ne ero dimenticato. Quindi, come al solito, attiviamo la nostra lampada, e adesso, ovviamente, attiviamo anche l'altro carico. Che dov'è? Ti ho perso? Ecco, ecco, dimenticavo. Scusa, spegniti un attimo, perché fai troppa luce. Il filo rosso qui è il positivo della linea del 12V, che entra dentro del contatore, perfetto, dalla parte superiore. Adesso cade tutto, scusatemi. Il bello della diretta è questo. Ok, dalla parte superiore. E utilizziamo per l'esaltezza il contatto numero 7. Per cui, il filo del ramo del positivo del 12 entra sul contatto numero 7, entra ed esce poi dall'altra parte. Utilizziamo sempre un bianco, eh? Sì, sì, per comodità, così. E automaticamente, poi, andrà dentro nel nostro magnetotetico. Scusa, ladrizzati, perfetto. E quindi, ragazzi, adesso effettivamente possiamo riaccendere la nostra lampada come prima cosa. Perfetto, adesso accende. Adesso però attiviamo anche la nostra lampadina che sta aspettando. Aspetti la corrente, eh? Per adesso non ti arriva. Perché io sono uno che fa gli scherzi. Perfetto, ragazzi. Non so... Ah, va bene, non si è sentito perché era già attivo. Ma lo facciamo dopo. E ovviamente la luce è un po' fiocca. Dimmi perché, come mai fai una luce così fiocca? Dimmelo un po'. Aspetta che adesso io provo a salare un attimo la tensione. Ok. Perché fai una luce un po' troppo bassa. Mmm. Vediamo un po', ragazzi. Cerchiamo di capire come mai. Allora, ho perso. Dove è finito? Ah, no, 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 no. Ok, ok. È proprio al massimo così. E quindi forse... Spegniamo un attimo l'altra. Quindi forse la camera non dà l'idea. Però questa è proprio la sua luminosità di 12 volts. Perfetto. Ok, ragazzi. Come al solito adesso, se spengo tutto quanto, si spegnerà tutto quanto. O spengo l'altro. e adesso sentiamo ovviamente l'attivazione del contattore. Perfetto, ragazzi. E allora, ciao a tutti e ci vediamo nella prossima presentazione. Ciao.